Agivano con metodo e senza scrupoli. Una 24enne di Trento, una 27enne di Villa Marzana e una 28enne di Marghera, tutte di origini sinti e già responsabili di altri reati. A loro carico ci sono ben 17 colpi accertati dagli uomini dell'arma, tre rapine e 14 furti di cui sette andati a segno, per un bottino di circa 15.000 euro tra denaro e preziosi. I fatti risalgono al periodo tra settembre 2020 e aprile 2021 e sono stati commessi a Sarcedo, Marano, Zuliano, Chiupano, Caldogno, Dueville e Schio. Le vittime hanno raccontato di collane strappate con violenza dal collo o entrando in casa o con affiancamento lungo la strada, a cui seguiva la fuga a bordo di una vettura grigia. Il veicolo è stato poi intercettato e bloccato a Marano dopo un breve inseguimento e uno speronamento in cui i militari, supportati dai colleghi in borghese, sono usciti fuori strada riportando lievi ferite. Le tre presunte ladre sono state rinviate a giudizio al Tribunale di Vicenza.